Torna al successo, un netto 3-0 ai danni del fananino di Cora Marsala, la Zambelli e Orvieto nella serie 2 di volley, gara senza storia al Palapapini, come confermano i parziali 25-20, 25-19, 25-16, Grigolo, 19 personali, migliore realizzatrice in assoluto, la vittoria porta le ragazze di Solforati in una posizione tranquilla di classifica. Nella B1 successo sofferto, dopo due ore e un quarto di gioco, ma meritato per San Giustino che al Palavolli supera 3-2 moglie, partita tirata e combattuta con le ragazze di Gobbini, straordinaria nel recuperare da 2-7 a 1 di svantaggio e imporsi alla tie-break, trascinate da una super mezza Soma con 30 personali, top scorer del match.